Ciao a BetTest.it, Limonov, 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 è sempre lui che corregge, corregge, corregge chi vorrebbe chiamarlo in un altro modo e lui è ben guiscio, è stupendo già in questa intonazione manco particolarmente infastidita, Limonov, 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 è la rivendicazione di un'identità che però cambia nel corso del film, diventerà uno scrittore che fa il servo o un servo che fa finta di essere uno scrittore che fa il servo. L'artista è un dandy, l'artista è un provocatore ma è anche un grande ingenuo. Che cos'è il dildo? Che cos'è il dildo? Quando le donne che amiamo ci tradiscono e ci spiegano che hanno avuto esperienze piuttosto interessanti con un dildo e Limonov, no, Limonov fa che cos'è il dildo? E Ben Guisho è sempre, è sempre il più grande attore del mondo perché sa essere tutto, sa essere potenza e sa essere debolezza e Limonov di Grilser e Brennikov racconta proprio questo. Ed è un approccio anche più satirico rispetto al libro di Carrer perché fa un Limonov velleitario, un represso, fino a che non avrà un'esperienza sessuale gay sconvolgente a New York ed è la scena più bella di tutto il film. Seri Brennikov è molto vicino al movimento LGBTQ e avrebbe dei grossi problemi se fosse nella sua madrepatria anche per quel motivo ed è un bel film, è un gran bel film. Lo doveva fare Saverio Costanzo, poi ha fatto purtroppo finalmente l'Alba, finalmente mi è piaciuto un film di Seri Brennikov ma lui lo adoro anche quando non lo amo. È un regista di cui ho molto bisogno, è un regista che stimo fin dai tempi in cui vinse la prima edizione della festa di Roma con Play the Victim, Leto è un film che adoro e questo è un film meno folle di Petros Flue, meno ridondante della moglie di Tchaikovsky che non si accorge che Tchaikovsky è gay ed è la storia di Limonov, che qualcuno chiamerà Limonov e lui Limonov, questo savenco che sta a Kharkiv anche se si chiama in un modo diverso, una città che noi abbiamo imparato molto a conoscere da quando c'è stata una certa guerra e noi vediamo la storia di questo scrittore che poi sarebbe diventato un politico, certo è il libro di Emmanuel Carrère che l'ha conosciuto a Parigi, ma è soprattutto il film di Kirill Seri Brennikov, fatto di piani sequenza pazzeschi, fatto di costante oscillazione tra potenza e debolezza, la sconfitta e l'anale. La scena di sesso e la scena di penetrazione che Limonov chiede a gran voce è magnifica, è magnifica, è magnifica, la scena di ribella di tutto il film, anche perché lì lui scavalca la bruttezza new yorkese ed entra in contatto con un altro perdente, un homeless black nero che ovviamente da buon americano punta il coltello a questo russo che va lì e gli dice io sono Eddie, sembra proprio di sentire Paolo Nori, che è stato molto interpellato anche nei talk show quando i russi hanno invaso l'Ucraina e gli chiedevano ma che cazzo lo hanno in testa questi qua e Paolo Nori